Molto figo, è stato molto bello vedere il mio pubblico lì, c'erano un sacco di miei fan ed è stato molto emozionante sentirli cantare per la prima volta i miei pezzi perché di fatto è stato una sorta di assaggio di quello che sarà il tour ed era la primissima volta che cantavo dal vivo quei pezzi, quindi è stato molto bello. We Come From Napoli, seconda tappa dell'iniziativa organizzata dalla rivista Billboard Italia per selezionare giovani talenti del panorama musicale italiano. Dopo la serata milanese a Palazzo Cavalcanti l'incontro con i cantanti e i rapper napoletani. Sono emozionato e orgoglioso di me perché è una bellissima cosa, è un grande inizio della mia carriera, del mio percorso e non vedo l'ora di raggiungere altri obiettivi ancora. Sicuramente è una cosa bellissima, è un'esperienza che mi sono vissuto appieno sia a Milano che qui oggi con voi a Napoli. Per me è stato semplicemente un tassello in più importante per la mia carriera e per il mio futuro. È un momento in cui si allineano i pianeti, bisogna essere fortunati per essere in quel momento al posto giusto e oggi siamo in quel momento, siamo nella città dello scudetto dei turisti e dei suoni. I suoni napoletani hanno ricominciato a viaggiare come non facevano da anni, decenni, forse in alcuni casi anche da secoli, hanno bisogno di essere supportati. Abbiamo la creatività, non abbiamo ancora le strutture, i manager, le spinte. Quindi io mi auguro che da queste e da altre cose venga la costruzione di quella filiera. I due vincitori della competizione organizzata per l'iniziativa, premiati per l'innovazione musicale e per il racconto del territorio, sono stati insegniti dal sindaco Manfredi della targa della città di Napoli. Sempre di più Napoli si sta assestando come Music City anche da un punto di vista della music industry. A Milano è stato un grande successo sia di pubblico che di addetti ai lavori, tutti venuti per ascoltare le nuove leve della musica napoletana. Il Comune di Napoli, Città della Musica, ha organizzato questo contest proprio per valorizzare i giovani nel nostro territorio e oggi il sindaco gli darà questo premio. Quindi è il coronamento di un percorso molto molto efficace, di cui siamo molto fieri. Ci sono giovani napoletani e napoletane che stanno ai vertici delle classifiche, che stanno oramai la musica anche in lingua napoletana, viene ascoltata in tutta Italia e all'estero. È un momento straordinario. Chiaramente questo che va coltivato, va supportato, per fare in modo che questi giovani artisti possano essere espressione di un grande movimento musicale della città, ma anche di un movimento imprenditoriale della città, perché oggi fare musica significa anche fare imprese. Spero che un domani il mio sogno diventi il sogno di tanti altri ragazzi che non solo dobbiamo andare a Milano, ma che si crea proprio l'industria qui a Napoli, perché non ce n'è mai se non è là. Napoli è troppo bello.